Ciao tifosi del Bari, ciao tifosi del Parma, eccoci qua per la sintesi, riassunto, mio commento, chiamatelo come volete, di questo match di Coppa Italia. Un ciao caloroso a tutti i tifosi del Bari che mi seguono dai playoff dell'anno scorso. Spero che rimaniate sintonizzati, che aumentiate perché porterò tante partite del Bari o comunque porterò la Serie B e quindi anche qualche post partita del Bari, quindi mi farebbe piacere riavervi e vedervi aumentare, idem, quelli del Parma, se ci sono qualcuno, due o tre, mi sembra che mi seguono, complimenti, complimenti perché oggi il Parma è davvero cinico ma un Parma perfetto, un Parma perfetto, non me ne vogliano i tifosi del Bari, sapete che io sono sempre obiettivo, dico la mia, voi giustamente dite la vostra, se non la pensate come me, liberissimi di commentare senza insultarci, discutiamone insieme, però è con Bari che oggi è stata veramente poca roba, è un Parma che invece ha fatto davvero tutto quello che poteva fare, nel senso che se con quattro tiri fai tre gol capisci benissimo che sei più che cinico, sei un livello superiore, un livello elevato. Sicuramente pesa l'accessione di Chedira praticamente fatta al Froginone, quindi l'assenza di Chedira dalla formazione iniziale, il solo Nasti non è bastato, si è visto qualcosa di più nel secondo tempo, ma appunto andiamo con ordine, non prima appunto di invitarvi a lasciare un like, un commento e un mi piace, appunto like e mi piace, la stessa roba, quindi sono completamente rincoglionito, e appunto un'iscrizione al canale se non siete iscritti, parlo di A, di B, di calcio in generale, nazionale, serie A, coppia europea, eccetera, eccetera, andiamo. Formazione, Bari, Frattali, Dorval, Di Cesare, l'iniziale ovviamente, Vicari, Ricci, Maita, Benali, Bellomo, che fanno ben poco secondo me in questo match, Moracchioli, Nasti e Schedler, ancora meno degli altri due, ha fatto questo qui. Benino, Moracchioli e Nasti, il resto da rivedere secondo me. Parma che scende invece con Corvi, Osorio, Benedisiac, uno dei migliori dei suoi al di là del gol, e Steves, l'altro che mi è piaciuto tanto è Bonni, Somm, Coulibaly, Hernani, Circati, Zacartis, Mann, e appunto allenatore Pecchia e di là Magnani. Quindi ragazzi, andiamo, 12.000 spettatori, circa 150 parmensi, con uno striscione che mi ha fatto sbellicare, sapete che non parlo mai di tifoserie per evitare guai e disastri e litigi, come è successo recentemente con i Bresciani, che non sanno stare allo scherzo, battute a parte, lo striscione recitava, vecchi inutili, applausi ai vecchi inutili e al gruppo vecchi inutili. Ho riso un quarto d'ora, inizio soporifero del match, non succede nulla di che, fino all'ottavo minuto appunto dove arriva il gol di Benedisiac, che gela il San Nicola, porta i mataggi Tucali, lasciato un po' troppo solo in area su questo corner Benedisiac, che non sbaglia e appunto segna. Tra l'altro Benedisiac, che i tifosi del Bari un po' malediranno, perché anche l'anno scorso segnò lui poi il gol in Coppa Italia, che eliminò i pugliesi. L'anno scorso finì appunto 1-0. Il Bari prova a spingersi alla cassa del gol, appunto spinto dal suo pubblico, ma il Parma chiude davvero tutti gli spazi, non riesce a rendersi pericoloso nei primi 25 minuti, la formazione pugliese, la Bari o il Bari, chiamatelo come volete io tutte le volte, mi sbaglio, lo chiamo il Bari, e quindi dopo vi arrabbiate. Comunque, a parte un buon tiro di Moracchioli, facile preda di Corvi, che è poi il nuovo portiere del Parma al posto di Buffon. Poi c'è un pericolo forse più grosso, fa un po' ridere, per il Parma è Coulibaly, che con una deviazione rischia la frittata, ma la palla va in angolo, ecco, una deviazione un po' pericolosa, che rischiava di mettere fuori uso appunto il portiere del Parma. Poi c'è stata una mini rissa di Cesare e Bonni, partita da loro due, un po' un contrastino che ha creato un po' di malumore, però fortuna si è dato subito, poi l'arbitro gli ha fatti parlare e si sono chiariti, dopo da lì in poi bene o male la partita è stata abbastanza corretta. Al trentatresimo ripartenza letale del Parma, che ragazzi fa di quest'arma la sua forza, lo sapete, quando riparte il Parma viaggia, però ecco, tutto il Bari si è fatto trovare scoperto, non sono intervenuti praticamente in nessun modo a contrastare gli avversari, insomma riesce appunto a servire Bonni, 2-0 per il Parma con due tiri in porta. È un Parma cinico, è un Parma cinico che però quando parte in velocità ragazzi fa paura, fa paura e obiettivamente oltre a questo è una squadra che non ti riesce a far fare il tuo gioco, riesce a chiudersi e comunque a non farti trovare gli spazi. Ed è un Bari che soffre questa cosa qui, il solo Nasti ogni tanto prova a farsi vedere in avanti, ma nulla di concreto, Bonacchioli approfitta di un errore del Parma, uno dei pochi errori della difesa del Parma, ma è Steves, salva tutto per i suoi. Si finisce così, i primi 45 minuti, inizia il secondo tempo con un Bari che nei primi 10 minuti del secondo tempo un paio di occasioni le ha, ma nulla di eclatante, senza fortuna, non pericolose, poi Manna inizia a far capire di che pasta è fatto, al cinquantasesimo, semina il panico in area pugliese, il tiro è fuori. Ancora Manna fa capire che succederà qualcosa, 11 minuti dopo sempre tiro fuori misura appunto per il giocatore del Parma. Poi c'è il palo di Bernabè, ragazzi capite anche voi che questo Parma in panchina ha giocatori che possono giocare titolare in molte squadre di Serie B, il Parma ha un organico totalmente in tutto l'ambito, compresi titolari e riserve, secondo me è superiore anche al Bari, non me ne vogliano appunto i baresi, secondo me sono due formazioni che lotteranno per la Serie A, entrambe, ma vedo il Parma ad oggi col mercato ad oggi sicuramente un pelo più avanti rispetto al Bari. Vediamo cosa arriverà in questi giorni di mercato per il Bari. Troppo poco Bari anche in questa ripresa, cerca l'impresa di ribaltare il risultato ma senza fortuna, senza neanche crederci più di tanto, secondo me, sono curioso a sapere cosa ne pensate voi baresi. Al settantaquattresimo, Mann trova il giusto premio alla sua ottima prestazione, e il 3-0 con un gol di tacco, chapeau ragazzi, davvero chapeau. C'è da dire, è realmente che il Parma veramente quattro tiri, tre gol, il Bari se non sbaglio ne ha fatti sei, se non sbaglio, mi sembrava di aver letto così nelle statistiche di taglia 1, capite anche voi che cambia tutto in questa maniera qui, cioè se tu hai quattro tiri e fai tre gol e gli altri no, la partita cambia. però obiettivamente c'è anche il Bari che ha cambiato un po' con l'ingresso di Sibilli, quando è entrato Sibilli che ha colpito anche una traversa con un colpo di testa, ha cambiato un po' l'inerzia lì davanti del Bari, è un giocatore che secondo me andava messo molto prima, è un Bari che trova anche il gol del 3-1, ma Maita viene appunto fermato per fuorigioco, quindi viene annullato. E quindi è un Bari che non avrà la gioia del derby contro il Lecce, perché a parte sempre, sempre se il Lecce non perderà il Como, tutto è possibile nella vita, però prossima partita ci sarà appunto la vincente di Lecce-Como contro il Parma. È un Bari che mi ha deluso, mi ha deluso, mi aspettavo un Bari che invece secondo me passava al turno, sì, partita che mi aspettavo aperta, però è un Parma che mi è sembrato davvero in palla, è un Parma che già nelle amichevoli aveva fatto capire che insomma sta bene, perché aveva pareggiato con la Fiorentina, aveva battuto il Sassuolo, aveva battuto il Bocum e aveva pareggiato sempre la zanzara di ieri, però non la prendo mai con l'Elce, ok? E quindi ragazzi, mi dispiace un po' per il Bari, perché boh, non mi è sembrata molto convinta, diciamo così, di poterla neanche recuperare nel secondo tempo non ho visto la cattiveria necessaria per provare a recuperare il risultato e la sorpresa, l'altra sorpresa di oggi viene da da Empoli dove il Cittadella batte le Empoli, tra l'altro Empoli subito in vantaggio all'ottavo minuto, poi non l'ho vista, ve lo ripeto, ho visto solo i primi 15 minuti prima che iniziava l'altra, poi viene recuperato appunto da Amatucci e Magrassi, se non sbaglio c'è anche un rigore sbagliato, avevo letto qualcosa del genere, parlato da Caprile e quindi ragazzi nulla da dire, anche Cittadella butta fuori l'Empoli, questa proprio non me la sarei mai aspettata, due chiacchiere giusto anche su questa partita qui sul finale, vi invito a commentare, a dirmi la vostra, mi raccomando se siete tifosi di Bari e Parma vi aspetto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti perché parlo di Serie B e quindi mi fa piacere avere tanti tifosi della Serie B, ci vediamo al prossimo video di vostro monta, ciao domani probabilmente per la Coppa Italia io stasera lavoro quindi non guardo neanche Atalanta-Juve non riuscirò a portare nessun post partita di stasera, mi dispiace perché probabilmente se non avessi lavorato sarei stata a Cesena a vedere Atalanta-Juve e non avrei fatto lo stesso Cagliari-Palermo però tant'è che non riesco proprio a causa lavoro. Vi abbraccio di cuore vostro monta, ciao, alla prossima. A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.